Sono Perla, ho 25 anni e sono fidanzata con Mirko da 5 anni. Ho iscritto io al programma perché per amore di Mirko mi sono trasferita a Riti, dalla mia città che è Salerno, e nonostante i miei sacrifici avendo rinunciato alla famiglia, al lavoro, alle amiche, ad oggi non mi rende felice perché lui è diventato da due anni una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione. Io ci provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza delle proprie abitudini e dei propri effetti. Il problema è che vedo un muro davanti a me come se qualsiasi cosa non è mai quella giusta.